Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Fedefarmaciannel. Vediamo i giorni di oggi. Piano vaccinazioni, Sileri, al via nelle farmacie in fase 3 e 4. Vaccino anti-covid, battaglia tra Unione Europea e AstraZeneca. Il via libera dell'EMA slitta di un giorno. Cardiovascolari, i farmaci più carenti in Europa. I dati del PGEU. Farmaci a domicilio, Leopardi, la forza delle farmacie e il Consiglio al cittadino. Si affinano i dettagli del piano di vaccinazione anti-covid. A ribadirli è stato il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine della presentazione del Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di SARS-CoV-2. Nella fase 3 e 4 del piano vaccinale, la maggior parte delle persone che non hanno patologie potranno prenotarsi alla vaccinazione con i call center, via online o attraverso le farmacie. Che, aggiunto il Vice Ministro, auspichiamo che accada quanto previsto dalla legge di bilancio, ovvero la possibilità di vaccinare anche in farmacia con la supervisione di un medico. Nella fase 2, invece, Sileri ha osservato che si procederà con le immunizzazioni nelle strutture centrali ospedaliere o nelle strutture periferiche con i dipartimenti di prevenzione. Saranno i medici di medicina generale e i dipartimenti di prevenzione delle ASL ad aiutarci a individuare per la vaccinazione covid tutte le persone al di sotto degli 80 anni con una o più morbidità, che in genere hanno anche dei codici di esenzione e quindi sono identificabili con un match di dati. E mentre l'Italia organizza la campagna vaccinale in fasi, in Europa continua il braccio di ferro con AstraZeneca per i tagli delle forniture dei vaccini al nostro continente. L'EMA, intanto, ha posticipato ad oggi il via libera sul vaccino britannico, anche se al momento non sembra esserci alcuna soluzione in vista per i ritardi nelle consegne del vaccino. La Commissione UE resta in attesa di una risposta in merito alla richiesta di pubblicare il contratto. Dall'altra parte, AstraZeneca dichiara che non esiste alcun obbligo per tale pubblicazione e oltretutto non avanza proposte per rimediare i tagli. Dalla battaglia tra l'Unione Europea e AstraZeneca ad uscirne vincitore dunque è solo il virus che continua a mettere vittime e non porta all'instaurazione di un piano concreto per vaccinare la popolazione europea. Ad aggravare la situazione sono anche altri numeri. In Europa solo due persone su cento sono state vaccinate, nulla rispetto all'11% del Regno Unito e al 45% dell'Israele. Negli ultimi 12 mesi, i 26 Paesi membri del PGEU hanno registrato carenze di medicinali nelle farmacie e la situazione è peggiorata rispetto al 2019. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Associazione per mappare l'impatto della carenza di farmaci in Europa dal punto di vista dei farmacisti di comunità. I farmaci per il sistema cardiovascolare sono quelli che scarseggiano nella percentuale più alta dei Paesi, ma più in generale sono oltre 200 i farmaci elencati come scarsamente disponibili. Il presidente della PGEU, Alan Delghetta, ha commentato i risultati sottolineando che mostrano la continua e elevata incidenza della carenza di farmaci in Europa e il loro impatto quotidiano è gravoso sui pazienti e sulla pratica farmaceutica. La pandemia Covid-19 ha reso il pubblico consapevole della vulnerabilità delle catene di approvvigionamento di medicinali e apparecchiature mediche. Ci auguriamo continua che la maggiore attenzione dei responsabili politici a questo fenomeno ci consentirà di segnalare progressi positivi nei prossimi anni e di portare finalmente soluzioni significative ai pazienti e agli operatori sanitari di tutta Europa. Si tratta di un'iniziativa che somiglia più ad un parricidio. A parlare nell'editoriale della rivista Nuovo Collegamento il presidente dell'Utifar Eugenio Leopardi e il riferimento è all'azione recentemente intrapresa da Comifar attraverso le farmacie del network Valore e Salute che prevede un servizio di consegna dei farmaci e di gestione a distanza delle ricette elettroniche svolto non dalla farmacia ma direttamente dal grossista. La nostra forza è il consiglio, ha osservato Leopardi una risorsa della quale i cittadini hanno sempre più bisogno. Da qui il presidente dell'Utifar ha invitato i colleghi a lavorare insieme per accrescere la nostra professionalità. Aumentiamo le nostre competenze e consolidiamo quel concetto di squadra della farmacia. Solo così, ha precisato, sopravviveremo ai cambiamenti importanti che ci aspettano. Questa era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.